Gentili telespettatori, buona giornata. Incredibile, incredibile. Enrico Letta torna a parlare di patrimoniale e vuole dare ancora 10.000 euro a tutti i diciottenni. Eh, diciottenni è un modo di dire. La sua è una mossa che cerca il voto di scambio informale. Che cosa vuol dire? Con la nuova legge, già allora, prima di questa nuova legge, quando c'erano le elezioni, alla Camera dei Deputati potevano votare tutti da 18 anni in su, per il Senato da 25 anni in su. Con la nuova legge, anche al Senato, tra 18 e 24 anni puoi votare. Sono 4 milioni e mezzo di nuovi elettori per il Senato, che Letta vorrebbe che votassero per il PD, offrendogli 10.000 euro. E lui dice, caspita, i grillini hanno fatto la gattata, con il reddito di cittadinanza si sono assicurati il 15% dell'elettorato. Io come faccio? C'è un modo. Ci sono 4 milioni e mezzo di italiani che tra 18 e 24 anni potrebbero votare per il PD se io gli offro, in caso di vittoria, 10.000 euro. Eh, 10.000 euro è come se fosse un anno di reddito di cittadinanza a livello di 780 euro, ecco, livello massimo. Quindi, alla fine, lui vorrebbe, in pratica, estendere il reddito di cittadinanza sotto forma di un assegno di 10.000 euro a quelli che compiono 18 anni. Sì, questi 10.000 euro sono vincolati, li puoi spendere per lo studio, li puoi spendere per comprare una casa, non li puoi spendere per esempio per andare in vacanza, però sono 10.000 euro. Poi, vabbè, con 10.000 euro ci comprate una casa, ma ma ancora notaio ci pagate con 10.000 euro. Con 10.000 euro dovresti avviarci un'azienda. Eh, sì, potrebbero essere in aiuto se uno vuole affittarsi un negozio tra le caparre che deve dare il primo mese d'affitto, forse manco ti bastano. Però, vabbè, meglio che niente, ma evidentemente a lui non frega niente dei diciottenni. Lui ha tirato fuori la scusa che i diciottenni poverini con la didattica distanza quanto hanno sofferto, quanta sofferenza. Gli diamo, dobbiamo dargli, dobbiamo restituirgli qualcosa. E a tutti quelli da 24 anni fino a 150 anni che hanno perso il lavoro, eccetera, eccetera, non gli vogliamo dare 10.000 euro anche loro? Capite che questa è una mossa propagandistica elettorale. E poi rilancia la patrimoniale, perché Letta sa che la patrimoniale va a colpire una piccola percentuale di italiani, dice, io colpisco l'1% degli italiani, ma il 99% sono possibili elettori del PD, che magari sono contenti di colpire i ricchi per dare ai poveri. Forza Italia dice no, le tasse vanno giù. Ma attenzione, sulla patrimoniale Letta non la spunterà perché è nel governo Draghi dove c'è Draghi che decide. E Draghi proprio oggi ha detto a Confindustria, le tasse non aumenteranno. E poi sui 10.000 euro ai diciottenni, ovviamente anche Draghi l'ha capito che è una mossa elettorale. Questo lo capisce anche, non lo so, io ho un carciofo nel campo, lo capisce, ecco. Ma lui, Enrico Letta, torna alla carica e ripropone la dote per i diciottenni. Diciottenni, la dote per i diciottenni, la sua mossa elettorale come voto di scambio. Dice, hanno un grossissimo voto di scambio i grillini, hanno più o meno 4-4 milioni e mezzo di persone che li votano perché hanno il reddito di cittadinanza con i loro familiari, conoscenti. Qui ci sono altri 4 milioni e mezzo, noi potremmo avere un ulteriore 15% di elettorato se proponiamo questa misura, 15 più 18 che ha, arriviamo al 33-34%, siamo il primo partito e andiamo a governare. È proprio furbo Enrico Letta, veramente un genio indiscusso. Mi vengono, mentre ve lo racconto, mi vengono i brividi. Ma lui, Letta dice, resta un nostro tema, dice, assicurando, se non ci sarà accordo dentro la coalizione di maggioranza, lo porteremo in campagna elettorale. Eccala. Lui sa perfettamente, lui sa perfettamente che Draghi non gli darà mai, non farà mai questa legge per dare questi soldi diciottenni. Ma Letta non vuole dare questi soldi subito. Letta vuole che sia una promessa da marinaio, da campagna elettorale. Perché immaginatevi che Draghi gli dice, ah, che interessante, lo facciamo subito, Letta. Cosa impossibile. Lo facciamo subito, Letta. E no, a lui questo non interessa. Perché una volta fatta la legge e una volta dato ai diciottenni sti 10.000 euro, non essendoci le elezioni adesso, a Letta interessa che questa sia una proposta elettorale, che lui possa dire diciottenni e loro famiglie, dai 18 ai 24 offriamo 10.000 euro, vota per Letta, vota per Letta, vota per Enrico, Enrico. E avete capito un po' che furbacchione che l'è l'Enrico Letta? E lui lo dice, lo ammette, lo porteremo in campagna elettorale. E quando avremo vinto le elezioni sarà uno dei temi principali. Come dire, quando vinco le elezioni poi subito questi soldi, a quelli che hanno vinto per noi facendoci vincere le elezioni. E poi dice, i giovani sono discriminati, scappano, ma un paese che non ha giovani nel motore non ha un futuro. Ma dove scappano i giovani? I diciottenni ma dove vanno? Dai, non raccontiamoci balle. Il diciottenne italiano che compie domani diciotta anni, ma dove scappa? Ma andovai a diciotta anni, ma dove scappi? Quegli italiani che vanno all'estero, ci vanno quando sono più grandi. Ma non a diciotta anni. A diciotta anni nessun paese ti accetta. Se non hai un lavoro, se non c'è qualcuno che ti sta aspettando con un contratto in mano, non vai da nessuna parte. E un diciottenne vuol dire che non ha fatto l'università. Se non hai fatto l'università, non sei una figura professionale così ricercata all'estero che ti fanno un contratto. Una persona senza laurea la trovi anche negli altri paesi. Non c'è bisogno di far venire il diciottenne italiano con un contratto. Capite che tutto questo è una sola campagna, è solo una campagna elettorale. Sono specchietti per le allodole. Ebbè, però, a me, Letta, la storia di Babbo Natale non la racconta e io vi racconto a voi come andare a capire quando sono storie di Babbo Natale, quando sono prese in giro elettorali. Arrivederci a tutti e grazie.